L'armato della compagnia Alfa è bloccato a 500 metri a suda da qui. Andiamo! Muoversi, muoversi! Tutto ok, avvazzati! Imboscata! Imboscata! Fuoco di soppressione su quel edificio! Dobbiamo avversare! Andiamo subito, il vittorio non fuoco! Adesso, tu e Roycevic, andate di sopra! Noi copriremo questa entrata! Andate! Andate! Libero! Con la loro vittoria dritta, i bianchi! Con gli aperti, sparagli attraverso il muro! Attenzione! Truppe nemiche in arrivo verso il carro! Raggiungetelo subito! Ricevuto! Ci stiamo lavorando! Chiudo! Attenzione! Granata! Stai zitto! E tienili fermi! Fuoco di soppressione! Fuoco di soppressione! Oh, oh, oh! Scusate! Non soffermi! Non soffermi! Non soffermi! Non soffermi! Non dà attività! Non soffermi alla mia mia! Non soffermi! L'UAB da ricognizione ha individuato carri nemici! West, sali sotto a tetto! E poi li saltare con i cavi! Sì, signor Regna! West, è a terra! West, è a terra! C'è questo! Prendi il cavi nemici! Sì! Non soffermi! No! Prendi il cavi nemici! Oh! L'UAB da ricognizione ha individuato carri nemici! West, sali sul tetto, e sbagliate il sale con i Sablin. West è a terra, West è a terra! Certo, presi il Sablin, a questo sale con i carri armati! Scira i veicoli dall'altra parte del posto, presto! Solti da qui! Continuate! Solti da qui! Solti da qui! Ammigo! Solti da giù! Solti da qui! 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 Seguitemi! Bravo sei! La nostra posizione è a nord del Cavalcadino, è sotto fuoco pesante! Dove andiamolo siete? Siamo quasi arrivati, resistete! Il carro è a nord del Cavalcadino, siamo a carica, forza! Torniamo dalla squadra! Alfa sei, rapporto, passo! Siamo ancora circondati, signore! Siamo rimasti in quadro, ma il carro è ancora ok, passo! Le mici a esse e altri cercieremo da sud, difendete l'area! Bravo sei, qui Warpik! Il canone è fuori uso, ma abbiamo ancora la mitragliatrice! Arrogezco le tibie, non fate le immicinare nel carro! Non fate le immagini, non fate le immagini! Nassim level trio oltre vaccinare nel cavale Non fate le immagini! Grazie a tutti! Erano, non fate le immagini! Nope ora! Versateces del avusio inziale! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Svegliate l'accesso da ovest. Forza! Jackson, indiciamo la nostra posizione a supporto aereo. Piazza il trasmettitore IR guida di qui. Chiudo. Segnale di spada. Segnale confermata. Arriviamo a tutta velocità da nord-est. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.